Concorsi di progettazione e collaborazione con gli enti locali sono stati i punti cardine dell'attività dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto nel 2020 e lo saranno ancora di più nell'anno appena cominciato, come spiega ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine Ionico Massimo Pruntera. Sono due concorsi di progettazione con altrettanti amministrazioni della provincia di Taranto, quindi il comune di Taranto, col quale stiamo portando avanti un importantissimo concorso internazionale sulla riqualificazione dell'area di Porta Napoli, quindi un nodo strategico fondamentale non soltanto per la parte viabilistica della città ma soprattutto per la riqualificazione complessiva del nostro territorio. Un secondo concorso che abbiamo portato avanti ed è già in fase, ed si è già concluso con la premiazione del progetto vincitore, col comune di Castellaneta per la riqualificazione dell'ultimo tratto del waterfront marino di Castellaneta Marina. Quindi due esperienze importantissime che hanno confermato la nostra volontà di portare avanti il processo legato ai concorsi di progettazione come strumento fondamentale per la trasformazione del territorio e che ci vedrà sicuramente impegnati. Ci auguriamo con le prossime amministrazioni e altri comuni che vorranno adottare questo strumento per scegliere le trasformazioni del territorio.